bello a tutti ragazzi vi siamo con un nuovo video dove vi spiegherò le cose principali che sono accadute in tutto questo tempo allora ragazzi volevo dirvi che riguardo al foggia c'è una nuova notizia cioè busbiba busbiba che dovrebbe essere già del foggia forse se ne parla molto poi mi hanno chiesto in molti il fatto di Vucinic il fatto per quanto riguarda Vucinic se lui rimaneva al cioè se lui andava al foggia ma per quanto riguarda non dico che non era una bufala ma dico che era semplicemente una cosa diciamo che era molto difficile da accadere perché costa passare no c'era la fine lei fa un po' no 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 Grazie per la visione!